Per la verità, sono sempre stata attratta dal sud, ma non avevo mai pensato a Porto Principe. Per me Porto Principe era un posto per cretini. Eppure da sei anni vengo qui ogni anno e ci resto tutta l'estate. Scendo sempre in questo albergo. È tranquillo, pulito. La spiaggia è bella. Mi basta arrivare qui per sentirmi finalmente a casa. È qui da sola? Sì. Bene. Benvenuta in paradiso. Si divertirà. Vado pazza per l'amore. Sesso, amore. Non li distingo più. In fin dei conti diciamoci la verità. Io qui i bianchi non li guardo nemmeno. Sono alquanto insipidi rispetto ai neri, no? Ma se ti piacciono tanto i neri dovresti andare a Montreux. Il suo corpo mi affascinava. Felino, agile, muscoloso, la pelle luminosa. Non riuscivo a toglierlo gli occhi di dosso. Sappilo, se sei in cerca di un marito hai sbagliato l'indirizzo. L'engba appartiene a tutte. Le decisioni le prende lui. No, le prendi tu.